Buongiorno, buongiorno, buon pomeriggio a tutti quanti voi. È estate, praticamente, oggi c'erano 30 gradi qui a Lecco e quindi, anche se è estate, noi facciamo le pulizie di primavera. Ovviamente sto scherzando, ma come avete letto dal titolo, ho questi tre prodotti che assolutamente, assolutamente vi voglio consigliare perché mi sono trovata benissimo. E poi ho due oggetti, due aiuti che mi hanno svoltato la vita nelle pulizie delle pareti, delle porte e dei vetri e le voglio condividere con voi. In una domenica pomeriggio molto calda e assolata, veramente vi rubo, spero, almeno pochi minuti per darvi i consigli perché poi da settimana prossima comincerete anche voi a pulire come se non ci fosse un domani. Allora, sapete che io non sono una maniaca delle pulizie, preferisco divertirmi con molto altro, con la mia creatività, leggendo, facendo la maglia, provando i miei profumi, testando le creme, però, insomma, le pulizie bisogna farle. E l'altro giorno, proprio, mi sono decisa a pulire la cappa e a pulire anche tutta la griglia che c'è sotto. Ho usato questo prodotto che si chiama Deo Sgrassante Decarbonizzante Deo Mix Pro Formula Potenziata Linea Professionale. Questo l'ho comprato su Top Store Caldarelli e me l'aveva consigliato proprio il proprietario. Allora, non fate come la Eli che non ha usato i guanti e poi se ne è pentita. Utilizzate i guanti, ma questo vi scioglie anche il muro. Allora, veramente, veramente potentissimo. Ha sgrassato perfettamente, ha lasciato la griglia come se fosse nuova. Veramente, io ho quelle griglie delle cappe che si staccano e sono divise in tre. Le ho appoggiate nel lavello, ho messo tanto così di acqua calda, ho fatto qualche spruzzata nell'acqua, addirittura neanche sulla griglia. Ho lasciato una decina di minuti, ho tirato fuori, erano pulitissime come se io le avessi passate con una spazzola. Sono rimasta veramente, veramente colpita da questo sgrassatore perché è una potenza. Ma usate i guanti perché io stupidamente non li ho usati e poi mi bruciavano le mani. E avevo appena fatto anche la manicure e quindi nulla. Questo però è veramente un validissimo aiuto. Adesso proverò con il forno. Lui me l'aveva consigliato proprio per la pulizia del forno. Io ho iniziato dalla cappa, ma ragazzi, che prodotto! Questo ve lo consiglio al 100%, veramente ottimo. Secondo prodotto è stata questa scoperta. Alba, aceto bianco di alcol. Io mi sto trovando benissimo. Lo sto utilizzando su tutti quegli elettrodomestici oppure quelle superfici che vengono a contatto col cibo. Quindi lo uso sulla mia isola perché magari ci taglio. Io sull'isola ho questo materiale che è una miscela di sassi. Non chiedetemi come si chiama perché non mi ricordo. E ci posso tagliare, posso appoggiare le pentole bollenti. Insomma, è veramente molto molto resistente. E preferisco pulirlo con un detergente che poi non sia dannoso per quando taglio la verdura o la frutta. Questo è a base di aceto bianco, profuma di mela. Il profumo, a me piace tantissimo il profumo di aceto, quindi non mi disturba e non mi dà fastidio. E poi comunque, passate dieci minuti, non lo sentite più. Però siete sicuri che comunque, anche se viene a contatto con un alimento, non c'è nessun problema. L'ho usato con il forno a microonde. L'ho usato, ed è stato veramente magnifico, sulla griglia dove faccio le verdure grigliate, dove metto i toast, quella che si apre. E l'ho usato per pulire tutto l'interno della friggitrice ad aria. Una bomba, ragazzi, una bomba. Se non vi piace l'odore dell'aceto, ecco, questo si sente, si sente parecchio. Si sente anche un po' l'aromatizzazione della mela, però si sente il profumo dell'aceto. A me il profumo dell'aceto piace, quindi non è un problema. Però, secondo me, è un validissimo aiuto, pulisce benissimo, sgrassa. Ottimo, ottimo, ottimo. Secondo prodotto che davvero mi ha dato una grossissima mano e soprattutto è naturale. Terzo prodotto, favoloso. Cif Formula Professional. Allora, io questo non l'avevo mai provato. Lo utilizzo sullo sportello della mia lavastoviglie, perché è in acciaio, e lo utilizzo sulla cucina gassa, che ha tutto il piano in acciaio. Bastano pochissime spruzzate di prodotto. Toglie, unto, scrosta e toglie anche il calcare. È favoloso. Ha un profumo, secondo me, di detergenti da linea professionale. Come quando entrate nelle cucine dei ristoranti, così che sentite quel profumo di pulito, ma non con i detersivi che generalmente usiamo noi. Ma ragazzi, una bomba. Poi, io passo con il mio panno di microfibra, una sciacquata o al massimo due, ed è splendente. Fa pochissima schiuma, pulisce, non bisogna lasciare agire. È una meraviglia. Questo io non lo abbandono più. Stupendo, stupendo, stupendo. Anche questo su Top Store Caldarelli, e anche lui su Top Store Caldarelli. Bene, i tre prodotti sono finiti, ma vi faccio vedere che cosa ho comprato su Temu. Qui c'è la borsettina con dentro i miei aggeggi. Io ho tutta la cucina dalla parte della cucina gas, che poi fa tutto l'angolo e arriva al lavello e sopra la lavastoviglie, piastrellata di bianco, con delle piastrelle rettangolari lunghe. Il mio problema è che io sono bassa, sono alta, 1,50. Quindi, con lo spessore del 60 cm, la profondità dei pesili, non ci arrivo a lavare fino a 1,60. E allora dovrei prendere la scaletta a tre gradini, dare in ginocchio sulla piano e pulire. L'ho sempre fatto, però adesso mi sono rotta un po' i balls. E mi sono detta, ma vediamo se su Temu c'è qualcosa. C'era qualcosa. E allora mi sono comprato il primo attrezzo, che è questa prolunga. Adesso ve la faccio vedere. Senza il panno, così, con un braccio lungo, che si estende e si diventa lunghissimo. Quindi questo è perfetto per i vetri, l'ho già provato. Viene una meraviglia. Ha la testa snodabile, che potete girare anche su e giù. Ok? E ci sono tre panni a disposizione. Uno, adesso questo lo appoggio, scusate, ma perché mi dà un po' fastidio. Uno è questo. E io l'ho usato per asciugare i vetri. Questo, che è leggermente in rilievo, come se fosse una paglietta di quelle che si usano per lavare i piatti. Quindi probabilmente proprio per tirare via un po' lo sporco più attaccato, più grosso, più vecchio. Oppure questo che io ho utilizzato per lavare i vetri e per lavare la mia cappa. Spettacolare, spettacolare. Questo diciamo che l'ho preso per le parti più grosse, quindi per tutte le piastrelle del bagno che ho fatto fino a un metro e novanta. Per gli stipi delle porte, per le mie porte alte. Io ho una casa con le porte originali degli anni 30 e sono molto, molto altre. Con quei vetri satinati, molto belle. Però sono alti. Io non ci arrivo, devo sempre prendere la scala. Con questo, ragazzi, è una meraviglia. È piacevole fare le pulizie. Questi tre panni e, se non sbaglio, io questo l'ho pagato su 12 euro o 14 euro. Però poi vi metto il link sotto. Altro attrezzino, molto, molto... Ah, ecco. Insieme poi c'era anche questa strisciolina di plastica che poi si monta sulla testa per quando pulite i vetri e quindi per far scendere, per togliere le gocce che ci sono in più quando li lavate. O anche per la doccia. Adesso devo provare. Adesso devo provare. E questo è il primo articolo che ho trovato veramente comodissimo. Il secondo articolo è, diciamo, la stessa cosa ma con una forma più piccolina. E questo mi serve per gli angoli della doccia, per gli angoli della mia parete con le piastrelle. Perché, track, track, si pulisce ed è una meraviglia. E qua, diciamo che è sempre la stessa cosa. Qui c'è la sua testina. Qui va solo su e giù, non si gira a destra e a sinistra, ma lui gira. Vedete? Gira. Però a me serve... è anche più piccolo e più maneggevole, quindi per pulire, diciamo, gli angoli e le parti più piccole. e in dotazione c'erano un sacco di cose. Allora, la spugna da intercambiare al... diciamo, la testina piatta. Qui c'è il gancino dietro e qui c'è la spugna. tre spugne di questo tipo, cioè una era già attaccata e le altre due erano nel pacchetto. E si attaccano alla stessa maniera. E due spugne per asciugare. E questo, se non ricordo male, otto euro. Secondo me i prezzi erano un po' quelli, ma poi ve li metto nell'info box. Ebbene, video veloce, dove vi ho dato veramente un input per le pulizie di primavera. Questi tre prodotti sono, secondo me, eccezionali. Eccezionali. Ma questo, ragazzi, sul podio. Sul podio. Ricordatevi però di usarlo con una protezione sulle mani. Non come la Eni. Veramente dei prodotti spaziali che ricomprerò. Allora, io questi due ho visto... Questo sono sicura di averlo visto anche da Acqua e Sapone. Questo non sono sicura. Ma per me non è un problema comprare da Top Store Caldarelli. Perché davvero i prodotti sono eccezionali. Mi sto trovando benissimo e ve li consiglio. Non sono sponsorizzata, cioè me li sono proprio pagati io. Però quando trovo qualcosa di bello che ci aiuta nelle pulizie. E ci fa fare anche le cose più piacevolmente. Perché non condividerle con voi. Bene, io adesso vi saluto. Vi auguro ancora una buona continuazione di domenica pomeriggio. Un bacio, un abbraccio e al prossimo video. Ciao!